Ehm, ciao! Oggi siamo andati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo tornati con una sfida particolare, una sfida che ho pensato mentre stavo facendo la cacca, non so se anche a voi capita tipo quando fate la cacca che vi vengono le idee, a me succede spesso. In questa sfida cosa dobbiamo fare? È una sorta di king of the hill, ovvero che uno di noi verrà taggato e quella persona dovrà mantenere il tag per più tempo possibile. L'altro invece dovrà cercare di rubarglielo perché una volta rubato farà lui punti, il primo che arriva a 600 punti vince, molto semplice. Però man mano che l'avversario si avvicina a 600 punti, noi guadagneremo dei progetti per potenziarci e riuscire a prenderlo, ma per capire meglio, sai cosa ti dico? Prenditi il cibo e premi il pulsante che in automatico darà a uno di noi il tag. Eccoci qua, eccoci qua. È taggato! Ah, c'è una cosa che, c'è una cosa che non ho detto, ovvero che le TNT, ogni pressure che premi... Ah, mi hai taggato tu, è vero. Porca miseria. Non ci ho fatto caso. Ogni pressure che premi esplode il mondo. Ciao Nico! Eh, ciao, ciao. Ma insomma potrebbe andare meglio. E se tu muori, il tag va in automatico a me. Mi stai per caso ti beggando? No, 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 perché? Ma dove vedo i punti che sto facendo io? Tu non li vedi, li vede soltanto l'avversario. Ah, ok. E questo contribuisce a... Mi stai veramente urtando. Mi stai veramente dando... No, no, mi hai taggato, no! Ok, molto bene. Ora, io sono su un albero e faccio un po' la scimmia. Perché le scimmie, non so se lo sai, ma si buttano anche... Sono un po' pazzerelle le scimmie, fanno cose assurde che... Ma perché io ho delle frecce senza un arco? Eh, perché piano piano... Capirai che... Ma se si è morto senza morire? Adesso sei morto. Ottacchi io, goto. Bene, molto bene. Non dovevo andare così secondo i miei piani. Allora, di buono... Ok, io non muoio. Ma tanto non muoio, ma che me frega. Bro, non c'è... No, 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 no. Non è una buona idea quell'albero. No, 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 no. No, non c'è più l'Iana. Ok. Mamma mia che giocata, si è spaccata l'Iana con l'esplosione. Vieni a prendere, dai. Ah, scusa, perché sei ancora... Ah, no, sono taggato io. Sei taggato tu. Vieni qui. Non dico che stai. Scendi giù. Non dico che mi gioco una mela. Vuoi una mela? No, scendi giù. Ho preso il tag? Ok, buono. Buono, buono. I tag... I power up sono ogni 100 cose, quindi non so quanto in questo momento sia, ma nel momento in cui io arrivo a 100, dovresti avere il primo power. power up. Ti vedo confuso. Eh, no! Mamma che giocata! È il giocatore! No! Sono taggato! Ah, guarda, arrivederci, ci mettiamo! Allora, però, qui la situazione... Wow! Wow! Puoi non picchiarmi, gentil... Non è stata una buona idea scendere qua sotto, lo sai? Lo so. Ah! Cavolo! Anche te però... Ah! Ah, sono vivo! Ah, guarda, guarda, guarda... Ma io ho il tag tanto. Ma quando l'hai preso? Ah, 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 ah! Ma porca di quella miseria. No! Sei taggato... No, 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 no. Ma porca miseria, mi lasci! No! La situazione sta diventando veramente scomoda. Mi puoi dire quanto sono, dai? 65. Solo! Ah! No. Grazie per il tag, hai fatto tutto da solo. Però ho sbloccato il primo power, che si era un altro. Allora. Sei arrivato ufficialmente a 100, te lo posso dire. E il primo perk è molto OP. Dov'è? Dove sei te? Eh, sono allo spawn, sono respawnato. Ah! Uh! Ok. Ovviamente il perk si toglie nel momento in cui io torno ad essere il tag... E c'è, Nico, tutto bene? Porca di quella miseria. No! Potrebbe andare deciso... No! Buono! Buono, buono, veramente buono questo, sai? Ma comunque stavo raccontando che Loco si è cacato addosso... Oh, mi cago addosso! ...ed è stato pulito... Io non ho toccato niente, comunque. L'ho toccato io! Oddio, c'è un pirla che mi vuole morto! Ma avevi mezzo cuore? Sì. Forse non è stata una buona idea. Eh, appunto, non è stata una buona idea farlo ora. Oh, c'è Ender Pearl! Sono arrivato a 100, quindi. Interessante. Cosa stai esplodendo? Oh, Alve... Ma hai attivato una TNT con le Ender Pearl! Dai, ho capito. È geniale come cosa! Ma non è geniale, sei un pezzente qua. Non mi ricordo più. Non vedo nessun pe... Ah, di là. Di là. Alve... Ma queste pressure plate qua come sono arrivate? No! Buonissimo, buonissimo. Mo' l'assistenza me la tengo io. Allora ragazzi, ora andremo verso il livello di altezza massimo, mentre... Me sta atterrando. Dicevo... Ah! Ah! Te l'ho aggiunto! Porca di quell'inserio. Ma vabbè, che giocato che ho fatto! Che giocato che ho fatto! Ma mi sto fortissimo! No! Buono! E il tagging si tiene! Let's go! Let's go! Un'altra storia interessante. Ti ho sentito perché purtroppo hai fatto esplodere una cosa. Stai continuando a fare esplodere tante cose. A rivederci, è stato un piacere. Basta lanciarle ender per lei. Basta! Non è divertente in questo caso. Eh, lo so, ma... Io non so come io si è finito dentro un blocco. Ah! Ho la seconda arma, mi sa. Sono il mago dell'and-up. Come hai la seconda arma? Come hai fatto a beccarmi? Molto interessante, molto, molto interessante. No, 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 no. Se muoio alla fine... Muovi! Muovi! Se è conto, 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 conto! Se muoio alla fine, 0,25. Madonna, ma tu sei a tantissimo. Ah, eccolo là che fa il ponte sullo stretto di Messina. Di... Maia, mi sono fatto male. Dicevo, ti va di venire qui a parlare di cose serie e non? Ma come è possibile? Ma che anche tu stai vicinissimo. Beh, insomma, vicinissimo fino ad un certo punto, eh. Dei 190! Ah, vabbè, almeno puoi vedere anche tu la seconda arma. Qual è? Ma il mio cibo? Ah, eccolo. Il tridente! Sono anch'io con la seconda arma. È molto carino quel tridente, te lo consiglio. Dovresti utilizzarlo, secondo me. Dove sei? Sono molto vicino. Ok. Allora, che qua abbiamo una bella casa, possiamo fare una bella skybase. E nel frattempo che ci mettiamo in una skybase, possiamo raccontare un'altra stor... Non ti vedo, che pagliaccio. Nel frattempo che ci siamo in una skybase, possiamo raccontare... Tu veramente, guarda, non ti dico le cose che devi fare, ma ti devi cagare addosso. Un'altra volta. Ma perché ogni volta devi cagare? Che cavolo, ma smetti di uccidermi ogni volta! Let's go, let's go. Let's go, meglio, così abbiamo il tempo per tornare. Non è bella la situazione quando hai il bordo vicino. Non è... Dovolo dal bordo! E morirai. Se muori non succede nulla. Ti ritaggato? Mannaggia a te, mannaggia a te. La situazione... Eh, sono fuori dal bordo. Oddio, mia... Eh, fuori dal bordo! Noi... Ho bisogno di un'altura. Ho sbocato un'altra arma. Vabbè, dai. Easy. Con questo è abbastanza facile. Allora, loco è ufficialmente a me... Mamma mia, che hit! Mamma mia, che hit! Devo un attimino proteggermi perché... Perché in realtà... Ma che mai frega a me? Ti faccio esplodere, vieni. Ah! E ti racconta una storiella. Ho poca vita, ho poca vita, ho poca vita, ho poca vita. Questa è la storia di come ho conosciuto... Questa è la mia storia di come... Mi avete cambiato. Un topo di nome, Remy. Troppo sua, forse, a fine. Mi sa che era il topo di... Di qualcosa. Ok, sì, proprio quello che volevo fare. Eh, io non so... Io t'ho visto lì, poi... Ma come mi hai preso? Non mi hai aiutato! Sono fortissimo! Sono fortissimo, dico... Sono il master of the trident! Ma guarda che qua c'è stato un problema con le hit! Questo te lo dico io. Ma non ti hai aiutato? Ora ti hai aiutato, bene. Ciao! Aia, mi sono rotto una gamba! Dillo la mamma! Vi racconto, quella volta in cui loco si è rotto una gamba. Allora, cosa è successo? Eh, ma porca di... Aia! No, aah! Sei tutta gatto adesso! Allora, dicevo, quella volta in cui loco si è rotto una gamba. Non mi sono rotto una gamba! È successo un casino, raga, quel gioco. Si è rotto un dito? Due dita una volta, cioè... Non... Insieme. Eh, dai! Ma questo non era nel metagame! Eh, non lo so! A quanti punti sono io? Non lo so, non mi ricordo. Ce l'hai scritto? Aspetta ora, dimmelo, dai! Mi prendi, lo dico! Marca pupazza! Marca di quella pupazza! Stanno finendo le mille nel mondo, considera! Prendimi, 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 prendimi! Anche un film con loro di capo! Prova a prendermi! Ti ho preso! Non ti ho preso? Ora ti ho preso! Allora, dicevo... E vabbè, dai! Sono messo male, dai! Sei tipo quasi 400! 370, forse! Sono avanti un minuto rispetto a te, basta! Eh beh, un minuto! È tanto! Oh, porca miseria! Dove è volto da Land Pearl? No, tu non l'idea! Meno male! No! No! Meno male, il cavolo! Ma tu non l'idea! Ho lasciato Land Pearl! L'esplosione l'ho fatta... Volare già completamente! Eh, mi dispiace! A posto! Allora, la vita è ingiusta, talvolta! Con le persone che esplodono Vi racconterò quella volta in cui loco è esploso È successo, ragazzi, un giorno d'estate Sapete, no, che di estate ogni tanto esplode, loco Ma cosa vuol dire? Eh no, ogni tanto non ti capita No! Stai lì dentro, topo! Vi racconto, quella volta in cui loco ha trovato un topo nel suo garage Allora, ragazzi, non so se lo sapete, ma loco ha l'ufficio in garage E una volta ci ha trovato un topo Questo topo ha squittito talmente tanto forte Che gli si è sentito in una registrazione Ma non è vero, non c'ho il topo in garage Eh, la madonna, che tridentata mi hai tirato! Una tridentata nei... Nei... Nei denti Nei denti, nei denti I denti perché sono fatti Una volta, vi racconto, quella volta in cui loco è caduto E ha sbattuto i denti contro Marci Eh, Marci c'è ancora la cicatrice Ma si è beccato! Eh, beh, va bene Ma si è beccato Sì, ma in quest'arena così piccola la situazione è veramente scomoda Sarà una gara di tagging e scapping Allora via questo You are dead! Sei un papà! Non sono un papà Vi racconto, ragazzi, quella volta in cui loco è diventato papà Non sono mai diventato papà! Cosa ne pensi di invece quella volta In cui un ippopotamo mi ha fatto esplodere Ma no, aspetta Cioè, non è successo proprio questo Aspetta No, non è che un ippopotamo Cioè, è stato un... Dobbiamo rivedere un attimo perché la frase non è stata ben completata Dicevo Io dimmi quanto sono? Eh, sei quasi a 500 Però 500 è l'ultimo power up E dovrebbe essere qualcosa di OP Perché se non è OP Ma porca la palla di neve! Palla di neve, palla di natale! Ok, bello Ho fatto un bel trickshot, eh Non ho più frecce Sì che ho frecce Devo dirvi la verità Le frecce ti torno ogni tanto Mi dispiace Se non le hai apri un ticket Vi racconto quella volta in cui loco ha aperto un ticket Perché Ah, che mi avevano rubato l'account di Fortnite L'account di Fortnite Si si chiamava con il nome cinese No, è successo È successo davvero? È quando avevi il nome cinese No, era russo Ah, era russo Prendi che mi hanno rubato l'account di Fortnite Aveva un nome russo Però loco non voleva perdere tutti i grandi acquisti che ha fatto su Fortnite No Quindi ha aperto un ticket Il mio grande acquisto Lui che ho fatto questa tasca in gelatina Perché sto evitando Ah, c'è un alieno Ok Dicevo non voleva perdere tutto Il suo account Di conseguenza ha aperto un ticket E in compenso E non ho rubato anche l'account di GTA È successo È quello Anni tanto Prima GTA Poi forte N'è successo Asmetti salire E sono il chilling In realtà costo Però facciamo una build Fai tuttiva È su forte Ne sono abbastanza bravo a build Loco Loco Non sapevo come dirtelo Ma il danno da caduta Lo sai, vero? A quanto sono? Troppo Tipo? 550 Ah, quindi è già la balestra Ma tu che sei immortale Perché non ti Ma porca di quella Come ho? Ti ho beccato sotto Ti ho beccato sotto È l'amato E io ti ho beccato da sopra Hai visto la mia sniper rifle? Aspetta però Se tu mi becchi mi sa che devo fare così quindi In questo modo non puoi beccarmi Credo Spero Se mi becchi sei forte Ma dai Non succederà mai Guarda che miss Guarda che miss Vedo qua la La sniper rifle Salve Come va? Come hai fatto? Ero pronto per ricolpirti Dai che manca pochissimo Sai che mi sa che non ho messo nulla per quando si vince Mi sono dimenticato E mi dici gentilmente quando arrivo a 600 Perché sarà molto poco Siamo taggati Siamo taggati Non sono più taggato Quanto sono? Manca Niente Non ti dico niente Manca uno? Eh forse cinque Bisogna farli questi cinque secondo me Buono Eh tu però si è messo bene eh Pure tu si è messo bello bene Non l'ho preso Niente Dobbiamo ricorrere il piano Z Taggato! Come? Ma aspetta Si è taggato tu o no? Siamo taggati entrambi Oh porca miseria Manca veramente poco per te eh Se può farti piacere Posso dirtelo No! Hai vinto! Quanto siamo? A quanto siamo? 215 Eh sì! Eh sì! Si vince! Quanto ero? Non lo so! Anzi riveliamo da tutto il mondo Guarda qui! 8 secondi rimanenti eh Di pochissimo 8 seconds Bello Bello Però non vi ho raccontato quella volta in cui loco è quasi affogato Vabbè nel prossimo video ragazzi lo racconterò Per oggi è tutto Molto frenetico e molto divertente Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video Buon Natale a tutti E felice Anno nuovo Vabbè vuoi arrivare a 600 per fare il figo? 4 3 2 1 Buon Natale 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 Grazie a tutti.